Una vittoria che consente di accorciare le distanze dalla salvezza, una sconfitta che complica ulteriormente una situazione già difficile. Tre punti alla Foglianese, tre come i gol di un fioravanti ispiratissimo e grande protagonista di giornata. Padrone di casa col solito tridente offensivo, ospiti con Vittorini affiancato da Sebastiani e Locci. Freggene, che si va a vedere per primo in avanti, Locci ha un buon pallone sul sinistro ma conclude altissimo sulla traversa. Decisamente più pericolosa la risposta della Foglianese, conclusione in area di Grimaldi, bravo Roberti a respingere. L'iniziale equilibrio si spezza al sedicesimo, errore in disimpegno di Baroni che di fatto smarca fioravanti davanti a Roberti. Il numero nove della Foglianese non si lascia sfuggire l'opportunità e supera il portiere del Freggene in uscita. Forti del vantaggio, i padroni di casa iniziano a gestire la gara, il Freggene si prova dalla distanza ma il destro di Rinaldi non crea nessun problema a Barloci. Poi sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sinistro sporco di Bianchini che scivola sul fondo. Sempre da calcio d'angolo la risposta della Foglianese, Fioravanti prova la conclusione dal limite e centrale è controllata da Roberti. Su calcio piazzato i padroni di casa, quando siamo già nel recupero, trovano la rete del raddoppio. Grimaldi mette in mezzo, Quintigliani in acrobazia indirizza il pallone verso il secondo palo, dove Fioravanti brucia tutti e mette a segno la rete del raddoppio che chiude il primo tempo. Passano due minuti nella ripresa e la Foglianese va vicinissima alla terza rete. Quintigliani vince un contrasto e conclude, Roberti se la cava con l'aiuto del palo. Freggene che risponde col sinistro potente di figura, respinto coi pugni da Barloci. Ospiti che al quindicesimo restano in dieci, rosso diretto per Vittorini che esagera con le proteste nei confronti del direttore di gara. Per la Foglianese la strada si fa decisamente in discesa, Fioravanti punta dritto verso la porta, destro a giro sul fondo. Poi corre da sinistra, Malè arriva di gran carriera per il colpo di testa, ma mette alto da ottima posizione. I padroni di casa fanno girare la palla e sfruttano la velocità degli attaccanti. Al ventiseiesimo Aquilani parte sul filo del fuorigioco, entra in aree e offre a Fioravanti un comodo assist per la tripletta personale che vale il 3-0. Con i tre punti in tasca la Foglianese potrebbe dilagare e Fioravanti cerca il poker personale con un destro al volo respinto coi pugni da Roberti. Il portiere del Freggene è attento anche su un tentativo su punizione di Grimaldi. Ultima occasione della gara, ispirata ancora dall'incontenibile Fioravanti, cross da sinistra, Cerica ci arriva di testa, ma non c'entra la porta. Finisce 3-0, Foglianese a 4 punti dal fiumicino e dà una salvezza che per il Freggene si fa sempre più lontana.